Torna il campionato dopo la pausa domani alle 14.30, l'appuntamento allo stadio Adriatico contro il Latina del tecnico abruzzese Didonato e del DS Marcello Di Giuseppe. Prima di trattare i temi relativi alla partita, in conferenza stampa Alberto Colombo ha parlato della morte di Gianluca Vialli e ha ricordato anche il suo aspetto personale, perché ricorderete Alberto Colombo ad inizio stagione ha avuto un delicato problema di salute. Poi sulla partita, recuperati Colai e Palmiero, tra i pali tornerà naturalmente Plizzari, chance dal primo minuto possibili per Gianmarco Ingrosso in difesa. Per il resto ci sono dei dubbi di formazione, ma di questo e d'altro ha parlato il tecnico Biancazzurro in conferenza stampa. Purtroppo ultimamente siamo funestati da queste notizie di persone, di uomini legati al mondo del calcio per quello che hanno fatto da lui a Miailovic, a Pelè. Purtroppo ultimamente si sta allungando questa lista di grandi personalità e dal punto di vista umano hanno vissuto anche, parlo di Miailovic e Vialli, una storia molto particolare, che magari al di fuori del calcio tanti vivono e loro risultano proprio perché essendo personaggi o per quello che hanno fatto nella loro vita sono l'apice, la punta dell'iceberg. Questo fa capire quanta fortuna a volte abbiamo e non riusciamo a rendercene conto perché poi quando si capita in vicende del genere lì vedi la drammaticità della vita e degli eventi che ti portano a dover affrontare magari un percorso che non sempre ti porta a vincere la battaglia. E quindi è un grandissimo dispiacere poi chiaramente seppur non con la stessa gravità molte volte visto quello che io ho trascorso ci pensi e ti rendi conto quanto poi sei fortunato ma è un grandissimo dispiacere che tante persone debbano soffrire e chiaramente persone come dell'importanza a livello mediatico come Vialli ci lasci e quindi è un grande dolore per tutti. Dire che la squadra sta bene lo posso dire ma in realtà aspettiamo a definirla dopo la partita di domani nel senso che quello che conta poi è quello che si andrà a fare domani in campo. Il lavoro che è stato fatto durante questa breve sosta è stato un lavoro fatto con testa, con voglia però le risultanze le vedremo domani. Forse noi avevamo più bisogno di staccare la spina che di lavorare. Mi auguro che ci siano dei benefici mentali di aver alleggerito l'aspetto psicologico derivanti da questa sosta. La squadra sono bene o male tutti recuperati, quando dico bene o male nel senso che sia Palmiero che Colai fanno parte dei convocati e potrebbero anche scendere in campo. Chiaramente chi più chi meno a livello di minutaggio in base anche a come è stato il decorso dell'infortunio. Palmiero arriva da un mese di fermo e ha recuperato anche se non al 100% però è disponibile. Stiamo affrettando un po' il rientro per fargli assaporare le sensazioni dello spogliatoio ma potrebbe anche darci una mano in termini di tempo abbastanza ridotti. Per quanto riguarda Colai si è fermato in settimana, oggi ha dato delle risposte positive per cui è recuperato ampiamente. Craya e Prizzali sono completamente recuperati per cui abbiamo quasi tutta la rosa tranne Pellacani e bisogna vedere Mesic che molto probabilmente causa il transfer internazionale potrebbe non essere a disposizione domani. Questo è il quadro della situazione. La possibilità che Facundo, intendo l'Escano, lasci la squadra perché ci sono state delle richieste. Qual è la sua opinione se a lei è arrivata qualche notizia ufficiale in settimana? No, attualmente no e io devo gestire un patrimonio che è attuale in questo momento ancora della società. È chiaro che nessuno deve rimanere contro la propria volontà e se c'è qualche giocatore che non si sente apprezzato o che non ha trovato il giusto spazio che lui riteneva di meritare, io credo che convenga a tutti che uno vada per la propria strada. Quindi su questo punto io sono chiaro. Finché i giocatori sono e dimostrano con la testa di essere presenti, io in modo meritocratico per quello che è il mio modo di vedere tendo a valutarli se possono essere utili o meno alla causa. Se si comportano in modo non degno di rimanere in un determinato gruppo, prendo dei provvedimenti. Altrimenti, io ripeto, finché un giocatore è a mia disposizione e la società non mi pone dei vincoli in funzione del mercato io lo valuto come giocatore pronto e utilizzabile. Nell'ultimo periodo ha avuto una piccola variazione al contesto tattico passando da 3-5-2 che aveva spesso utilizzato una specie di 3-4-3 alzando Riccardi sotto punta insieme a Margiotta alle spalle di Fabrizi. È una squadra che, vedendo anche partite tipo Crotone o altre, tende comunque a voler venire a pressare alta. È una squadra per cui non lucra sul risultato ma vuole provare a imporre, sia senza che con la palla, le proprie idee. Se e quanti dubbi ha di formazione per domani? Grazie. Ma qualcuno, perché comunque ci sono stati dei giocatori che magari non mi aspettavo potessero presentarsi visto il periodo di infortunio. Ecco, Craia ha dimostrato di stare bene, quindi può essere un dubbio fra lui e qualche altro del centrocampo, perché comunque Craia è sempre stato un giocatore che ha dato molto alla causa. Così come dietro in grosso, nonostante si legga voci di possibili partenze, io per essere fedele a quello che dico se un giocatore rimane e dimostra attaccamento e voglia, io vado sulla meritocrazia e quindi se si è comportato bene e ritengo che possa essere utile alla causa, sceglierò lui piuttosto che un altro dietro. Per cui questo è per essere sempre precisi nelle proprie convinzioni e danno un segnale di continuità e di trasparenza nella gestione del gruppo. Quindi lo dico più per il gruppo che per il pubblico, perché appunto finché un giocatore è alle mie dipendenze e dimostra di volerci stare con la testa fino all'ultimo giorno, poi magari Gianmarco domani dopo la partita potrebbe prendere per assurdo un'altra decisione. Siccome mi ha dimostrato finora di tenerci tantissimo alla causa e in queste settimane si è impegnato ancora di più nelle difficoltà, è un giocatore da tenere in considerazione. Poi quello che sarà domenica o lunedì sono altri aspetti.